Ciao ragazze e ciao ragazzi! Benvenuti in un altro video, questo sarà il primo tutorial dedicato al periodo natalizio. Inoltre sarà un video collaborazione con un'altra ragazza che fa video qui su YouTube che si chiama, che trovate, con il nome di Lady Atti Makeup, ovvero Angela. Abbiamo pensato di creare un make-up che fosse concentrato sull'utilizzo di due colori classici per il periodo natalizio, ovvero l'oro ed il rosso. Mi raccomando, correte dopo aver visto il video anche a vedere il video di Angela, e ovviamente il suo canale, e ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al mio e al suo canale, per cui non vi trattengo oltre, vi lascio alla realizzazione del tutorial, vi mando un bacio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!